Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri One World Italiano Video. Tanti auguri a te. Esprimete tutti un desiderio con me. Uno, due, tre. E finalmente siamo arrivati a cinquanta ragazzi! Cinquanta! Come? Come scusate? No 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 no, mi dispiace, non ho cinquant'anni. Come? Chi ha cinquant'anni? Ma questa è la cinquantesima lezione del corso One World Italiano Video. E dobbiamo festeggiare con una bella torta. Cinquanta candeline, beh cinquanta non ci stavano. Ne ho prese due, happy birthday. Va bene, tanti auguri. Grazie a tutti voi e se siamo arrivati a cinquanta, è tutto merito vostro che continuate a seguirmi. Grazie, grazie, grazie. Siamo vecchi, abbiamo imparato tante cose. E scommetto che non sapevate che imparare l'italiano sarebbe stato così facile. E invece guardate quanto avete imparato, avete visto? E poi vi ricordate? Vi ricordate come ero seria all'inizio? Ciao a tutti, sono Veronica, io mi chiamo Veronica. E sicuramente non sapevate all'inizio che io avrei fatto così tanto la buffona. Guardate un po', oggi ho anche il cappellino. E poi tutte non sapevate che sarebbero successe tante di quelle cose, e tanti problemi. Per esempio vi ricordate quando avevo la febbre? Oddio! Oppure quando ho perso l'aereo? O quando non ha suonato la sveglia ed ero in pigiama? Vi ricordate quanti, quanti, quanti ricordi? Oppure l'altra volta che avevo lo strappo muscolare e sono rimasta così. E va bene, questa è Veronica, questo è il mio corso. Sicuramente si, non immaginavate tutto questo. Non immaginavate che sarebbe stato così, così molto... Come dite voi americani? Easy going! Si, qualche volta mi sono anche messa gli occhiali e ho fatto la seria. Ma questo lo farò la prossima volta, la prossima volta. Perchè la prossima volta? Adesso fra un po' ve lo spiego. Prima però dobbiamo festeggiare un'altra cosa. Che cosa? Che questa è l'ultima lezione del livello A2. Ok? Quindi adesso voi avete un livello A2 e doppio festeggiamento. La torta per la cinquantesima lezione. E il mio mitico cannonau per il livello A2. Cin cin! Aspettate! No 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 no! Non festeggiamo ancora! Perchè voi non avete ancora il livello A2. Manca una lezione! E si si si, manca proprio una lezione. Perchè io vi ho anche già preparato il certificato. Perchè dovete sapere che la prossima volta ci sarà un esame. E si ragazzi! Sarete promossi o bocciati! E così ragazzi! Io non posso darvelo gratis! Ovviamente mi dovete dimostrare di aver capito tutto. Di aver imparato tutto quello che c'è da imparare nel programma A1. No, abbiamo terminato il livello A1 tempo fa. E questa volta siamo alla conclusione del programma A2. Però aspettate, io adesso devo insegnarvi qualcosa oggi. E infatti io vi ho fatto degli esempi. Io vi ho detto, per esempio, non sapevate che imparare l'italiano sarebbe stato così semplice, così facile. Perchè questo tempo verbale sarebbe stato? Che cos'è? Vi ricordate? Infatti qua ho scritto lezione 49. La scorsa lezione. E mi ha insegnato il condizionale composto. Andatela a rivedere per favore. Così potrete capire quello che vi spiego adesso. Perchè Veronica hai introdotto il condizionale composto in questa frase? L'altra volta io ho fatto degli esempi diversi. Per esempio, avrei comprato queste scarpe ma erano troppo care. Questo è un desiderio irrealizzabile e irrealizzato. E quindi per questo, ok, io ho usato il condizionale composto. Ma adesso non c'è nessun desiderio. Voi sapevate che, non sapevate che imparare l'italiano sarebbe stato così semplice. Questo è l'uso del condizionale composto e un futuro nel passato. Veronica che dici? Cos'è il futuro nel passato? Inizio a togliermi sto capellino perchè almeno un minimo di serietà. Mi dispiace ma la voglio. E va bene. Almeno quando spiego la grammatica. Quando faccio la buffona con la torta e il canonao. Ma ora spiego grammatica. La grammatica è quindi così. Vi faccio degli esempi. Quindi, allora, io che cosa ho detto? Discorso diretto. Mi metto qua. Imparare l'italiano ragazzi sarà facilissimo. Questa è una mia frase. Discorso diretto usato il futuro. Perchè magari ho detto una frase così all'inizio del corso quando voi non conoscevate ancora l'italiano. Bene. Però se io adesso parlo del passato, vi avevo promesso, per esempio, che imparare l'italiano sarebbe stato facilissimo. Io non posso dire vi avevo promesso che imparare l'italiano sarà facilissimo. No! Perchè o ve lo prometto adesso e vi dico l'italiano sarà facilissimo in futuro oppure torniamo indietro. Vi avevo promesso che l'italiano, quando parlo del mio presente, che allora era futuro. Quindi sarebbe stato facilissimo. Facciamo un altro esempio. Allora, la prossima volta, come vi ho già annunciato, ci sarà un esame. Io sarò più seria, niente capellino. Mi troverete molto seria e vi dovrò valutare. E faremo una verifica. Quindi se supererete l'esame, io vi consegnerò il certificato. Va bene? Quindi questo fatto deve ancora accadere. Poi magari la prossima volta nel futuro, se sarete stati bravi, spero di sì, io vi dirò bravi, bravi, bravi! Vi avevo detto che forse eventualmente vi avrei consegnato il certificato. Siete stati bravi ed eccolo qua. Quindi io parlerò di qualcosa che avevo detto nel passato pensando al futuro. Esatto. Bene. Un altro esempio. Io cerco sempre sempre di essere positiva. Io adesso sono sicura che voi supererete l'esame. Ok? Quindi io adesso parlo sempre del passato, dell'esame. Mi raccomando, studiate e preparatevi. La prossima volta, parlando di quello che avevo detto nel passato, cioè oggi, pensando al futuro, io dirò Ero sicura che voi avreste superato l'esame. Non posso dire ero sicura che voi supererete l'esame. No, perché l'avete superato! Io dirò questo, forse. Io vi dirò, l'avete superato? Bravi! Ero sicura che avreste superato l'esame. Ok? Cercate di capire questo meccanismo. E' molto semplice. Andate a rivedere la lezione 49. Rivedete bene il condizionale composto. Poi rivedete anche il condizionale semplice, ovviamente. Dovete conoscere il condizionale per poter costruire una frase come questa. E mi raccomando, rivedete tutto. Ricordate che la prossima volta ci sarà un esame. Quindi studiate, studiate, studiate. Ragazzi, a me è venuta fame però. E' ora di cena. Io ho questa torta di fronte. L'assaggio. Non mi avevano detto però che questa torta, scusate, mi è venuta fame, sarebbe stata così buona. Quindi ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, studiate. Ricordatevi che la prossima volta ci sarà l'esame. Vi ringrazio ancora per avermi seguito per tutte queste puntate. Grazie mille. E continuate a seguirmi su One World Italiano Video. www.oneworlditaliano.com Ciao!